Ciao a tutti, vi faccio vedere qualche aggiornamento che abbiamo rilasciato su FantaLab in questi giorni. Per prima cosa abbiamo introdotto qui la possibilità di consultare le statistiche dei diversi anni, quindi abbiamo inserito la stagione attuale, corrente, con tutti i voti che verranno ovviamente via via automaticamente aggiornati e soprattutto abbiamo inserito una funzionalità che abbiamo chiamato guida all'asta, è una sorta di guida all'asta dinamica dove potete ovviamente consultare tutte le squadre, vi fa vedere le formazioni, diciamo, tipo della squadra nel modo in cui gioca, ovviamente vi spiega ballottaggi, rigoristi, chi tira le punizioni e soprattutto su ogni squadra sono organizzati in tre diversi modi, quindi potete organizzarveli per fasce, quindi queste sono le fasce che avete fatto voi, vedete ci sono i top, i semi top, le terze fasce, vi fa vedere tutta l'organizzazione dei giocatori, potete organizzarveli per formazione, quindi questi sono l'11 titolare tipo del Milan, questo è i giocatori che entrano nei ballottaggi, nelle rotazioni e questi sono gli altri e potete visualizzarli per ruolo, questo è utile soprattutto al mantra, potete consultare tra i vari ruoli che sono. Come vedete tutti i giocatori sono organizzati in base al più costoso che in questo momento nelle altre aste di Fanta Lab è stato pagato, quindi il prezzo medio del giocatore a quanto sta andando via in Fanta Lab e in questo modo potete tranquillamente guardare chi sono i più appetiti, i più giocatori che vanno via a di più. La cosa che è interessante, questa qui è utile all'asta perché ovviamente anche qui i giocatori verranno automaticamente cancellate mentre fate l'asta su Fanta Lab o semplicemente vi tenete tutto sotto controllo direttamente dalla piattaforma, quindi i giocatori verranno cancellati e quindi potete consultare soprattutto quando sono rimasti pochi giocatori la guida all'asta e vedere chi ancora è disponibile da comprare e a quanti crediti può andare quel giocatore.